Abbiamo parlato delle varie forme giuridiche, non potevamo non parlare di quella che è l'innovazione dal punto di vista dei tipi societari, quale appunto la startup innovativa e quindi andiamo ad analizzare quella che è la disciplina, le caratteristiche essenziali e fondamentali delle startup innovative, che non è un tipo giuridico a sé, ma è più un attributo, una caratteristica, un'estensione che viene dato a tipi sociali già esistenti. Intanto partiamo dalla definizione di startup innovativa, dove nella definizione già sono contenuti gli elementi caratteristici di questa nuova appunto forma introdotta dal legislatore recentemente e che permette importanti agevolazioni sia dal punto di vista fiscale che lavoristico. La startup innovativa, come si legge dalla slide, sono società di capitali o cooperative che svolgono in modo esclusivo un'attività di ricerca, produzione e commercializzazione anche separatamente a questo, di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico con impiego di personale altamente qualificato. Una società può essere costituita come startup innovativa, ovvero a particolari condizioni diventarne. Quindi una società viene costituita ed è già startup innovativa, oppure un SRL che è già costituita lo diventa. La disciplina prevede delle agevolazioni fiscali e lavoristiche ha quale suo scopo, quale razzo della norma che le appunto istituite, la crescita, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione di alto livello, vedremo nel corso della trattazione, e la mobilità sociale, soprattutto dei lavoratori altamente qualificati. Nelle nuove professioni digitali la startup innovativa rappresenta e rappresenterà un punto di riferimento. Escludiamo casi di commerce dove non c'è poco di innovativo, tantissime professioni digitali opteranno per la startup innovativa. Cerchiamo di capire quali sono i requisiti per poter essere una startup innovativa. Non basta un'idea innovativa ad alto contenuto tecnologico, vedremo nel prosieguo della lezione che cosa significa, ma sono necessari dei requisiti per poter essere qualificati quale startup innovativa. I requisiti sono di due tipi, requisiti ordinari e requisiti speciali. Tra i requisiti ordinari il tipo sociale. Per essere startup innovativa può essere un SPA, un SRL, una SAPA o una cooperativa. L'oggetto sociale dovrà consistere in un'innovazione tecnologica. La sede legale dovrà essere in Italia o in un altro stato dell'Unione Europea o uno stato aderente allo spazio economico europeo, purché vi sia una sede produttiva o una filiale in Italia. Tra i parametri, altri parametri, dei requisiti, i quattro requisiti principali, le quote o le azioni della società non dovranno essere quotate. Vi è di vieto di distribuzione degli utili nel periodo startup, 5 anni dalla costituzione. Il valore della produzione dovrà essere inferiore a 5 milioni di euro. Analizzati i requisiti ordinari, quantomeno in forma sommaria, andiamo adesso a vedere quelli che sono i requisiti invece speciali per poter costituire una startup innovativa, che sono importanti, che non devono essere presenti tutti al contrario dei requisiti ordinari, ma ne deve essere presente almeno uno fra questi tre. I tre requisiti speciali dove deve esserne presente almeno uno alternativamente sono le spese di ricerca e sviluppo, la forza lavoro e la parte relativa alle invenzioni industriali. Almeno uno di questi tre deve essere soddisfatto. Almeno uno di questi tre. spese di ricerca e sviluppo devono avere una misura uguale o superiore al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione. Il maggior valore, tra questi due lettere L, lettere B del conto economico, deve corrispondere ad una misura del 15% di questo maggior valore. Il bilancio dovrà quindi indicare spese di ricerca e sviluppo in questa misura. Diciamo che il requisito forse è il più semplice da far valere. Il secondo requisito riguarda la forza lavoro, riguarda chi abbiamo davanti, i soci, perché poi sostanzialmente la startup innovativa da chi verrà costituita? Difficilmente verrà costituita da un investitore che poi assumerà personale con quei requisiti. Difficilmente, perché non c'è distribuzione degli utili nei primi cinque anni. Difficilmente. Può accadere come investimento. Può accadere che vi siano degli incubatori, certamente. Però generalmente noi stiamo parlando dei casi in cui abbiamo di fronte dei soci che vogliono costituire una nuova società per svolgere una nuova attività. Di questi soci quindi saranno quelli che ci lavoreranno. Almeno un terzo deve avere in alternativa, dottorato di ricerca o laurea, più attività di ricerca certificata per tre anni. Oppure almeno due terzi deve avere una laurea magistrale. Abbiamo tre soci davanti, tre ingegneri, non ci sono problemi. Magistrale, attenzione, non laurea triennale. Invenzione industriale è il terzo requisito di quelli alternativi. La società deve essere titolare, licenziataria o depositaria di una privativa industriale particolare. A tal punto si vede l'articolo 25,2 lettera H numero 3 del decreto legge start-up, il quale spiega con precisione che cosa si intende per privativa industriale particolare. Si pensi la società deve essere titolare o depositare o licenziataria di un titolo di privativa industriale. Un brevetto, un marchio, un modello, un diritto d'autore. Questa è la privativa industriale particolare. Brevetto, marchio, un modello, un diritto d'autore. Relativo ad una invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotti a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale oppure titolare di diritti relativi ad un programma per il laboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per il laboratore, purché tali privative siano direttamente inerenti l'oggetto sociale e l'attività di impresa. Leggo la norma alla quale ti ho fatto riferimento. È più probabile che già chi abbiamo davanti ha questa cosa e già lo conosce, però è importante comunque conoscere per indicare, per svolgere al meglio una consulenza, per svolgere al meglio la redazione di un paere in relazione ad una forma giuridica da far scegliere ai nostri interlocutori. Come vengono verificati i requisiti? Le start-up innovative, al fine dell'iscrizione nella sezione speciale, start-up appunto innovative, per godere appunto delle agevolazioni che derivano, che ora a breve vedremo, devono effettuare dei adempimenti particolari. Alcuni di questi adempimenti sono addirittura periodici, come l'aggiornamento semestrale, punto registro delle imprese, delle informazioni, come soprattutto il più importante è il deposito annuale dell'autocertificazione, così come l'aggiornamento sul sito web della start-up di tutte le informazioni, aggiornamento continuo e costante. Cerchiamo di vedere principalmente quello più importante che è l'autocertificazione annuale. Il legale rappresentante, dice la norma, deve depositare al registro delle imprese un'autocertificazione che attesta il mantenimento dei requisiti di start-up ed eventualmente le aggiorna entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ci sono anche altri chiaramenti nelle circolari ministeriali dello sviluppo economico che sono la numero 3672 del 2014. In caso di ritardato deposito c'è una sanzione amministrativa che va da 103 a 1032 euro. In caso di mancato deposito, quindi non ritardato deposito, la società decade dai benefici, agevolazioni ed esenzioni e viene cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese. Quindi attenzione come l'autocertificazione sia di fondamentale importanza. Se viene meno, ho già accennato sull'autocertificazione, uno, anche uno soltanto, dei requisiti previsti dalla normativa prima della scadenza del periodo start-up cinque anni dalla costruzione, entro 60 giorni la società viene cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del registro e decade dalle agevolazioni. Rimarrà iscritta nella sezione ordinaria del registro imprese, ma decade dalle agevolazioni, che poi sono ovviamente quello per il quale viene fatta la start-up innovativa. Parliamo adesso dell'oggetto sociale, uno dei punti più importanti e fondamentali della start-up innovativa. La società deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, virgola, la produzione e la commercializzazione dei prodotti o servizi ad alto valore tecnologico. Questa innovazione o alto valore tecnologico possono essere anche cumulativi. Un prodotto è di innovazione e un prodotto ad valore tecnologico, non che lo stesso prodotto debba averne entrambi. Questo c'è stato un chiarimento. È ininfluente il settore in cui la società opera? Purché derivi un nuovo prodotto o un nuovo servizio oppure un nuovo metodo per produrli o fornirli? Questo perché è ininfluente? Perché in ogni campo dell'attività economica è consentito che sia sviluppato un nuovo prodotto o servizio, non che nell'agricoltura non può, piuttosto che nell'industria, piuttosto che nei servizi. In ogni campo dell'attività economica può essere sviluppato un prodotto o un servizio sia innovativo che ad alto valore tecnologico. Ma come facciamo sostanzialmente a verificare che l'oggetto sociale rispetta questo requisito? Esiste appunto nell'indirizzo, nel link che ti indico che è www.to.com.it startup innovative, si possono utilizzare queste indicazioni che sono fornite dal registro dell'impresa di Torino che le ha fornite il 16 novembre 2016 e che sono appunto consultabili su questo sito. La startup in forma di SRL ordinario può essere costituita senza notario. È l'unica SRL che può essere costituita senza notario. È l'unica che può andare in deroga all'articolo 2463. Non ci sono altre forme di SRL che possono essere costituite senza notario. Ci saranno un sacco di persone che ve lo chiederanno. L'unica startup che si può fare senza notario, la startup SRL ordinario. Atto costitutivo e statuto sono redatti in modalità informatica e quindi vengono redatti non su Word scansionati e inviati, ma vengono redatti secondo un form da compilare che viene appunto indicato nella piattaforma startup.infocamere.it. Questo atto costitutivo e statuto sono redatti in modalità informatica e sono in totale conformità al modello standard ministeriale. Sostanzialmente si compila online. È necessario ovviamente le varie firme elettroniche, le varie firme digitali che autocertificheranno il tutto e si può fare senza notaio. Unica forma. Andiamo a vedere quelle che sono le regole particolari di funzionamento della startup innovativa. Ci sono delle regole particolari previste per le startup e delle regole previste per le startup fatte in forma di SRL che diciamocelo chiaramente sono quelle che interessano a noi. Chi fa una startup innovativa la fa sotto forma di SRL. Al fine quindi di rendere maggiormente snella la gestione per le startup sono fissate delle regole in deroga alla disciplina generale. Tra queste regole, regole che riguardano in caso di perdita del capitale sociale, si deroga quanto previsto per la disciplina generale, in caso di crisi d'impresa dove non vi è la soggettabilità a fallimento della startup innovativa e per quanto riguarda strettamente le SRL le modifiche all'atto costitutivo senza notaio, appunto, la sottoscrizione, acquisto e cessione di quote SRL, sempre, l'emissione di strumenti finanziari. Pensiamo al caso delle perdite del capitale sociale dove il capitale minimo è intaccato perché la perdita è di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al secondo esercizio successivo al suo verificarsi. È diverso dalla disciplina generale. In caso di crisi alle startup in via esclusiva si applicano le procedure previste per la composizione della crisi da sovraindebitamento. Si applica la legge 3 2012 in via esclusiva alle startup. Di conseguenza la startup non potrà essere dichiarata fallita, non potrà neanche essere sottoposta alle altre procedure previste dalla legge fallimentare, riducendo così i tempi di istruzione della crisi, agevolandole la gestione così da consentire appunto il superamento della crisi. Che è un po' anche tutto l'orientamento che sta andando la nuova normativa sulla crisi di impresa che deve tendere al funzionamento, alla ripartenza e non alla cessazione dell'attività. Per quanto riguarda poi nello specifico le SRL, le modifiche all'atto costitutivo senza notaio, come abbiamo detto, la sottoscrizione, acquisto e cessione di quote in forma più semplificata con l'intervento del notaio o del commercialista, oppure anche con l'intervento, e questa è la particolarità, di intermediari finanziari abilitati a rendere uno o più servizi di investimento. Cioè l'intermediario finanziario abilitato può sottoscrivere, acquistare e cedere le quote. Infine, importantissimo, l'emissione di strumenti finanziari. L'atto costitutivo può consentire alle start-up in forma di SRL di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti addirittura amministrativi, escluso ovviamente il diritto di voto nella decisione dei soci. Emissione che potrà avvenire anche a seguito di un apporto da parte di soci o di terzi che può essere anche un apporto di opera o di servizi. Informazioni fondamentali. Emissioni di strumenti finanziari per le start-up innovative in forma di SRL. Queste sono regole particolari di funzionamento che le differenziano dalla SRL costituita in forma ordinaria. Viste le regole di funzionamento andiamo a vedere quelle che sono le agevolazioni proprie della start-up innovativa. Il periodo di start-up, come ho già detto e ripetuto, nel quale quindi è possibile usufruire di queste agevolazioni è di cinque anni dalla data di stipula dell'atto costitutivo. Le agevolazioni hanno carattere temporaneo ovviamente. La razza di queste agevolazioni è quella di promuovere, valorizzare, agevolare questa fase di avviamento dell'impresa attraverso appunto la semplificazione degli adempimenti. Queste agevolazioni si sostanzieranno quindi in agevolazioni a carattere fiscale, contributivo e lavoristico che ora andiamo a vedere. Agevolazioni a carattere fiscale e contributivo sono un credito di imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato. L'esonero dal versamento dell'imposta di bollo e i diritti di sereteria. L'esonero dal diritto camerale annuale fisso. Agevolazioni per amministratori, dipendenti, collaboratori, prestatori d'opera e investitori. Agevolazioni che colpiranno direttamente loro e non la società, saranno particolari esenzioni, deduzioni e detrazioni. Quindi importanti agevolazioni fiscali e contributive. Dal punto di vista invece delle agevolazioni lavoristiche, un metodo di calcolo della retribuzione dei dipendenti bivalente. Una retribuzione quindi fissa e una retribuzione variabile correlata quindi all'efficienza, alla produttività e alla redditività. E uno speciale regime per i contratti a termine. Stiamo parlando di una delle importanti ragioni per cui sono state istituite che è la mobilità sociale del personale qualificato e quindi uno speciale regime per i contratti a termine. Conclusioni? La domanda la faccio io. Ti sentiresti di consigliare questa forma giuridica? A chi? A quali condizioni? Il procedimento senza notaio? Vediamoli tutte queste domande. Consigliare questa forma giuridica? È una forma giuridica che comporta delle responsabilità per il professionista perché poi chi la fa la sua certificazione? Chi la scrive? Il professionista dovrà verificare costantemente requisiti, dovrà stare attento, consigliare. Sicuramente gli oneri, gli onorari, scusa, saranno più alti rispetto a un essere all'ordinaria perché maggiori dovranno essere le accortezze nel gestirla. A chi? Chi abbiamo davanti? Ricorda che è vietata la distribuzione degli utili per cinque anni. Per cinque anni non possono essere distribuiti utili. A quali condizioni? Abbiamo verificato tutto? E il procedimento senza notaio? Considerato che gli onorari notarini non saranno dovuti, chi dovrà materialmente seguire i clienti nella redazione dell'atto costitutivo? Il professionista. Ti sentiresti di consigliare questa forma giuridica? È importante conoscerla bene, è importante analizzarla bene, è importante valutare chi abbiamo davanti, è importante interpellarci su tutte quelle che possono essere le variabili soprattutto avuto riguardo all'oggetto sociale rispetto a quello che deve essere sulla startup innovativa, rispetto a quello che abbiamo detto nella lezione precedente riguardo all'oggetto sociale. Con la startup innovativa abbiamo concluso l'analisi delle forme giuridiche, il nostro modulo, chiamiamolo così, di diritto commerciale societario. Abbiamo concluso tutte le informazioni che ti serviranno per il corretto inquadramento giuridico. Spero che ti sia piaciuto questo video e sono qui per dirti che questo video fa parte di un percorso formativo totalmente gratuito e disponibile qui su YouTube. Quindi se non sei partito dall'inizio ti invito a visionare la playlist, partire dall'inizio per scoprire insieme come aumentare il fatturato, dimezzare le tasse e diventare un imprenditore migliore. Ciao e a presto!